Allora amore, per il matrimonio di tua cugina di domani ho appuntato tutto sull'agenda. Dimmi se ho dimenticato qualcosa. Allora, stasera serenata, sorpresa, anche se lei già sa tutto. Alle due a letto, domani non lavoro ovviamente. Alle quattro ci alziamo, tu aspetti l'estetista, io mi lavo la macchina nel giardino e nel frattempo arriva la parrucchiera e alle dieci ti portano l'abito. Io vado a prendere il fiocco per l'auto e passo dal barbiere. A pranzo mangiamo panini con il prosciutto. Alle due dallo sposo a fare le foto e la partenza verso la chiesa. Alle quindici dalla sposa per l'aperitivo, foto e video per la partenza verso la chiesa. Alle sedici in chiesa e usciremo alle diciotto, già sudati. Andiamo a casa, tu ti metti il vestito per la sera ed io l'altro vestito. Poi andiamo alle saline di Marsala a fare le foto con il tramonto e poi ad Erice per le foto con gli amici. Alle 21 in sala, alle 22 si inizia a mangiare e alle 2 di notte si finisce. Alle 3 a casa degli sposi per spumante e selfie di fine festa e alle 5 a letto. Dopo domani mi sono preso un altro giorno libero perché li devo accompagnare all'aeroporto. E nel frattempo passo dalla clinica privata e mi ricovero e dopo tre giorni esco. Ah? Poi si sposa tua con mare? Ma il covid quest'estate perché si è presa questa pausa? Non poteva... Uff...